Musica Benvenuti a questo nuovo appuntamento con 7 giorni di cronaca, il retocalco della nostra redazione giornalistica con le principali notizie della settimana. Partiamo con la cronaca in apertura. C'è stata una prima udienza in settimana alla Corte dei Conti sulla vicenda della circunlacuale. Si tratta di un'inchiesta della Guardia di Finanza per la quale sono state segnalate per un presunto danno erariale da quasi 18 milioni di euro. 25 persone. Sentiamo. Prima udienza alla Corte dei Conti dell'inchiesta condotta dalla Guardia di Finanza sulla mancata realizzazione della Galleria di San Giuliano di Puglia, opera che rientra nel progetto più ampio della circunlacuale. Un'inchiesta per la quale sono state segnalate la Corte dei Conti per un presunto danno erariale che sfiora 18 milioni di euro. 25 persone. Sono ex amministratori regionali, sindaci, funzionari e dirigenti della comunità montana Fortore-Molisano di Riccia, della regione e del provveditorato interregionale per le opere pubbliche di Campania e Molise. La prima udienza ha esaminato la posizione del geometra Mario Consiglio. Dinanzi al collegio presieduto dal consigliere Tommaso Mieri, il procuratore generale Carlo Alberto Maffredi Selvaggi ha tenuto la sua requisitoria puntando la sua attenzione sull'affidamento diretto dell'incarico al progettista e direttore dei lavori Giuseppe Abbamondi. Secondo il procuratore, la procedura seguita per l'affidamento dell'incarico avrebbe violato la disciplina che regola la materia degli appalti pubblici. Il tutto avrebbe quindi provocato un danno di un milione e mezzo di euro e il geometra Consiglio ha accusato di non essersi opposto all'incarico dando parere favorevole. L'avvocato Gianni Di Giandomenico, difensore di Consiglio, ha invece precisato che il geometra non ha alcuna responsabilità. Era stato chiamato ad approvare il capitolato per l'incarico ma non l'incarico stesso, ha precisato l'avvocato, che ha anche chiesto la prescrizione per una parte dei reati contestati al suo assistito. Un confronto tra accusa e difesa particolarmente acceso con il procuratore che ha ribadito la richiesta di condanna del geometra, che è solo la prima delle 25 persone che saranno chiamate davanti alla Corte dei Conti. Tra queste c'è anche l'ex presidente della regione Michele Iorio, che ha difeso l'opera, utile, ha detto, a far uscire dall'isolamento il fortore. E' opportuno precisare che la giunta regionale da me preseduta si è impegnata nel 2012 per dare soluzione a un'opera da troppo tempo incagliata, ha dichiarato, visto che parliamo di un appalto che risale al 1994. La scelta fatta dalla giunta, ha proseguito Iorio, è stata quella di nominare il commissario, ossia il provveditore alle opere pubbliche, Donato Carlea, pure lui segnalato la magistratura contabile, nei confronti del quale confermo estrema fiducia e stima. Sono certo di poter dimostrare insieme ai miei colleghi la perfetta buona fede della nostra iniziativa, ha proseguito Iorio, e spero che sul proseguimento dell'opera si pronuncia anche l'attuale governo regionale, assumendo le opportune iniziative di programmazione, ha concluso Michele Iorio. E restiamo a parlare di cronaca giudiziaria, riguarda una decisione del TAR, nessun risarcimento o danni alla ditta di Zia, la Civitas, dopo l'annullamento delle autorizzazioni per costruire due centrali a biomasse a San Polo, Matese e Campocaro. Lo ha sentenziato appunto il Tarmolise, accogliendo il ricorso presentato dalla provincia di Campobasso, dai comuni del Matese e da alcune aziende, Lattiero, Caseari. Il Tarmolise ha dichiarato in parte improcedibili ed in parte li ha respinti i ricorsi presentati dalla Civitas e dalla ditta di Zio, che chiedevano un risarcimento danni ed un indennizzo di oltre 30 milioni di euro a seguito della revoca e del successivo annullamento delle concessioni rilasciate dalla regione per realizzare due centrali a biomasse nel cuore del Matese. L'organo amministrativo ha accolto invece il ricorso presentato dai comuni, dalla provincia di Campobasso e dalle associazioni ambientaliste, patrocinato dagli avvocati Pino Ruta, Massimo Romano e Margherita Zezza. In una sentenza abbastanza complessa anche da un punto di vista procedurale, le motivazioni si possono così sintetizzare. Il Tribunale Amministrativo ha stabilito che in quella specifica area del Matese non è possibile installare il tipo di centrali a biomasse che pretenderebbero di installare le due società che hanno fatto a loro volta ricorso al Tarmolise. Purtroppo per la seconda volta siamo stati costretti, i nostri clienti in particolare, quindi i comuni dell'area del Matese e anche i casefici, quindi gli operatori economici che lì operano, sono stati costretti ad andare per la seconda volta davanti a un tribunale amministrativo per chiedere di ottenere la tutela di un'area bellissima, quella del Matese, che ci si aspetterebbe che venisse tutelata in tutt'altra sede. Quindi siamo solamente contenti che il giudice abbia stabilito questo principio, quella è un'area da tutelare in cui non si fanno parchi eolici, non si fanno centrali a biomasse, non si fanno interventi invasivi e distruttivi per l'ambiente. Questo è il dato che noi ne traiamo adesso, poi vedremo insomma domani se qualcuno dirà qualcosa in contrario. Al momento dunque hanno vinto i sindaci, i cittadini del Matese e soprattutto le mamme di Campochiaro che presidiarono la zona del cantiere della Civitas per oltre due mesi, ovvero dal 1 settembre 2014 al 2 novembre, nonostante le paradossali azioni di contrasto mascherate da difesa dell'ordine pubblico che, secondo molti osservatori, nell'occasione tutelavano più l'entrata e l'uscita dei mezzi dal cantiere che i manifestanti. Nei prossimi giorni sapremo se il braccio di ferro continuerà al Consiglio di Stato per volontà della ditta di Zio e della stessa Civitas, rimaste senza centrali e senza risarcimento danni dopo la sentenza del Tar. Sempre per la cronaca, lo scorso 10 settembre al Cardarelli di Campobasso morì un detenuto che era stato trasferito dal carcere di Larino in quello del capoluogo. Ora, dopo l'autosia, la procura di Larino ha aperto un fascicolo e ci sono degli indagati. Omicidio preterintenzionale l'ipotesi di reato per la quale indaga la procura di Larino dopo la morte il 10 settembre del detenuto Carlo Sticca, 56 anni di Campomarino, che era ricoverato al quarto piano dell'ospedale Cardarelli di Campobasso nella zona riservata ai carcerati. La scorsa settimana è stata eseguita l'autopsia. Decesso per cause naturali, arresto cardiocircolatorio o c'è altro? Sono gli interrogativi ai quali il sostituto Carrai sta cercando di dare una risposta sulla base di quanto è emerso e a disposizione. Al momento alcune persone sono iscritte sul registro degli indagati. Cinque agenti di polizia penitenziaria da quello che trapela. Sticca era stato arrestato ad agosto per resistenza pubblico ufficiale ad agenti della polizia e atti osceni in luogo pubblico lungo la statale 16. Descritto come un tipo turbolento, era stato rinchiuso nel penitenziario frentano, poi trasferito in quello di Campobasso. A settembre ricovero in ospedale la morte. I familiari dell'uomo hanno presentato una denuncia per accertare le cause del decesso. Indagini delicate, dicono dalla procura. Ancora nella fase iniziale gli inquirenti stanno valutando ogni cosa, acquisendo atti anche nel capoluogo. Sugli indagati il procuratore Vaccaro ha parlato di atto dovuto. Ora si attendono gli esiti dell'autopsia per avere più certezze. Apriamo adesso la pagina della cronaca amministrativa politica. Referendum contro alcune norme del decreto sblocca e dalle riforme costituzionali che tolgono il potere legislativo alle regioni. Di questo e di altro si è parlato nella conferenza dei presidenti dei consigli regionali riuniti a Campobasso in settimana. La riforma del titolo quinto della Costituzione in discussione al Senato e alcune norme del cosiddetto decreto sblocca Italia, contro le quali ci sarà un referendum abrogativo, non piacciono ai presidenti dei consigli regionali che si sono riuniti in assemblea plenaria al convitto Mario Pagano di Campobasso. Un lavoro certosino e un confronto serrato con i poteri centrali sulle modalità elettive dei senatori e sulle nuove funzioni di Palazzo Madama, ma soprattutto la difesa dell'autonomia delle regioni messa a rischio dalle riforme costituzionali. A fare gli onori di casa il presidente Vincenzo Niro. La prima volta come vice coordinatore nazionale della conferenza dei presidenti. Questo è un grande segno di attenzione che io rivolgo un ringraziamento a tutti i colleghi delle assemblee legislative che hanno inteso avere un momento di attenzione per la nostra regione di natura nazionale come il referendum sugli odrocarburi e quindi sull'articolo 35 e 38 dello Sblocca Italia dove noi abbiamo già deliberato insieme alla regione Basilicata e l'altro tema che riguarda la riforma della nostra Costituzione e soprattutto il titolo quinto, la riforma del Senato, la cancellazione del bicameralismo perfetto. Questa riforma del titolo quinto mette in evidenza una forma di centralismo, di nuovo centralismo a danno di un regionalismo, quindi c'è una cancellazione del regionalismo. Io credo che questo sia una violenza alla nostra Costituzione. Alcune cose vanno fatte e vanno scritte insieme alle regioni. Presenti all'iniziativa i presidenti dei consigli di 12 regioni, tra i quali il coordinatore della conferenza, ovvero il presidente del Consiglio del Friuli Venezia Giulia, Franco Jacop e della Lombardia, Raffaele Cattaneo. Immaginare che il Senato diventi una sorta di cameretta per bambini in una casa che è quella delle istituzioni e che le competenze principali che caratterizzano l'agire di un territorio passino tutte alle competenze dello Stato ci preoccupa. Le regioni devono continuare ad avere la titolarità su quelle politiche fondamentali. Presidente Cattaneo, una riforma costituzionale del titolo quinto che non piace alle regioni? No, non ci piace, non ci piace affatto, soprattutto perché tende inesorabilmente a trasformare le regioni da organi legislativi in organi che avranno sostanzialmente solo competenze amministrative. Sullo sfondo resta il dibattito per l'autonomia delle piccole regioni, come il Molise, e su questo il presidente della Lombardia non usa mezzi termini. La Lombardia ha 10 milioni di abitanti, la seconda regione italiana ne ha poco più della metà. Io credo però che nel nostro paese si debba mettere in discussione la forma attuale delle regioni se vogliamo affrontare seriamente il riordino del sistema delle autonomie. e credo che evolvere dalle attuali 20 regioni a un modello che possa avere 8-9 regioni sia una strada percorribile. Il Molise è certamente una regione piccola e più piccola quasi di tutte le province lombarde, però credo che il Molise non sarebbe in difficoltà in una riaggregazione più ampia che coinvolga le regioni della fascia adriatica. Credo che sia giusto affrontare questo tema con realismo e non con la difesa esasperata dello statu quo, che non è necessariamente la soluzione migliore. E nella stessa conferenza si è parlato anche di immigrazione, politiche sociali e diritti umani, i temi che sono stati al centro della discussione. Seduta conclusiva della Calre, conferenza dei presidenti delle assemblee regionali europee con poteri legislativi a Campobasso, il tema dell'immigrazione al centro degli interventi non solo dei presidenti, immigrazione e lavoro, argomenti caldi sui quali i singoli governi e l'Europa si confrontano per trovare soluzioni, accoglienza, tutela e integrazione, ma anche la questione dei minori stranieri non accompagnati, punti di discussione ai quali hanno contribuito rappresentanti di organizzazione internazionale del lavoro, tribunale, questure, prefettura, università, come il vice prefetto Maurizio Falco del Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione del Ministero dell'Interno e Luisa Corazza, delegata del Rettore per il Mercato del Lavoro. Il tema migratorio si sta organizzando, spostando l'asse degli interessi non soltanto alla migrazione illegale o umanitaria e come gestirla, ma come suggerisce questo convegno, preparandoci il dopo, cioè sviluppi di forme di migrazione legale che sono poi il destino e la formula più giusta per far fronte a questo fenomeno. Il lavoro, soprattutto se questa ripresa economica riuscirà ad esplodere definitivamente, sembra che siamo agli albori di una nuova stagione più positiva, ci vedrà insieme forse ad aver più bisogno dei migranti di quanto noi stessi italiani non pensiamo. Il lavoro è una delle prime vie, delle prime strade per l'integrazione degli immigrati. I lavori si sono conclusi con la redazione e approvazione di un documento, una proposta di risoluzione indirizzata a istituzioni europee e nazionali da presentare all'assemblea plenaria della Calre a Milano il 22 e 23 ottobre. Questo documento che oggi scaturisce dagli interventi degli esperti, qui va in ringraziamento alla nostra Università che ha curato e approfondito queste tematiche, perché sono temi sia dei minori e sia dell'emigrazione per lavoro, che devono trovare una visione complessiva in tutti gli Stati membri dell'Europa. Quindi credo che questo è un elemento che non potevamo non far apparire all'interno di una risoluzione che ci auguriamo la Comunità Europea possa approvare l'unanimità. In sintesi, qual è la vostra proposta? La nostra proposta è di gestire in maniera più integrativa possibile l'accoglienza, perché tutto si forma sull'accoglienza e la distribuzione territoriale che credo che possiamo fare da esempio un po' a tutta Europa per la magnifica accoglienza che noi abbiamo avuto fino a questo momento. Il prefetto Falco su questa tematica ha preso proprio il Molise come punto di riferimento. Il giurista Giuseppe Tesauro, presidente emerito della Corte Costituzionale, stato in Molise, ha parlato della riforma del Senato, dei limiti del bicameralismo da correggere, in sostanza appoggiando la riforma Boschi. La società italiana si è trasformata, non è più quella del dopoguerra e non è così sbagliato pensare ad una riforma del bicameralismo perfetto come quello tra Camera e Senato. Lo ha detto Giuseppe Tesauro, ex presidente della Corte Costituzionale, in visita a Isernia, che ha praticamente avallato la riforma Boschi. Ma guardi, tutto è perfettibile. La nostra è una bellissima Costituzione, i nostri costituenti furono dei grandi ingegneri del diritto. Naturalmente, come tutte le cose, come tutti gli strumenti giuridici e le Costituzioni in particolare, risentono anche un po' del tempo in cui sono state poste in essere. La nostra fu un momento, l'alba di una notte tragica in cui tutte le forze politiche, anche opposte, si riunirono e fu un'opera sinergica la nostra Costituzione, quindi con tante cose bellissime che per oggi possono in parte essere perfezionate, precisate. Ci sono tante cose che hanno denunciato l'usura del tempo. Una di queste è quella di cui si parla... Ma questo Senato fanno bene a toglierlo o no? La perfetta somiglianza di Camera e Senato era un difetto da perfezionare. Come... questo è un altro discorso, adesso non vorrei entrare in un discorso politico. Certamente il Senato, poi in Italia, a Roma, la parola Senato è una parola antica che solo evocarla naturalmente dà delle emozioni. Forse questa è una delle ragioni per le quali non è stato... non si è pensato di abolirlo del tutto. Sono state riviste le funzioni, il metodo elettivo è stato ridimensionato, adesso con gli accordi ultimi forse si è trovata la quadratura del cerchio. Era una delle cose da modificare. Tesauro è venuto in Molise ospite di Enrico Santoro insieme agli amici comuni, tutti ex docenti universitari che, accolti dal loro ex collega d'università, l'ex sindaco esernino Enrico Santoro, hanno voluto visitare il Paleolitico. È un impegno che avevamo da tempo, quello di ritrovarci in verità, dopo gli incontri napoletani, con il gruppo di amici con i quali abbiamo fatto esperienza a livello universitario, Mario De Dominici, Raffaele, 40 ed altri. Tutti avevamo, forse è esagerato oggi dirlo, ma devo dire che era così il culto di Don Alfonso. Io in particolar modo perché Don Alfonso era il presidente della Commissione Affari Costituzionale e fu quello che diede la svolta decisiva per l'istituzione della provincia di Segna. Martedì è tenato in unione anche il Consiglio regionale l'Aula ha approvato all'unanimità una richiesta di referendum contro le trivelazioni in mare per la ricerca di idrocarburi, approvati anche due ordini del giorno sulla riorganizzazione del Ministero dell'Interno e sulle riforme costituzionali. Un referendum abrogativo con sei quesiti per cancellare alcune norme inserite nel decreto Sblocca Italia che consentono, tra l'altro, le trivelazioni nel mare Adriatico per ricercare idrocarburi. Il Consiglio regionale del Morise, unitamente alle assemblee di altre regioni che si affacciano sull'Adriatico, deliberano l'avvio della fase referendaria evitando la raccolta di 500.000 firme qualora tale richiesta venisse approvata dai consigli di almeno 5 regioni. Era un po' la definizione di un percorso che abbiamo avviato con l'approvazione del cosiddetto manifesto di Termoli dove i diversi presidenti delle giunte regionali in presenza degli assessori all'ambiente hanno determinato che si sarebbero poste in essere tutte le azioni finalizzate ad evitare le trivelazioni del nostro mare chiuso Adriatico. Questa è quasi la fase finale di questa procedura di impegno che ha visto protagonisti le regioni del litorale Adriatico che hanno già alcune di esse provvedute ad approvare l'avvio del referendum abrogativo. Alcuni sindaci che non accettano di aderire a Lega ma propongono un referendum abrogativo anche sul sblocca Italia riferita alla unicità di gestione dell'acqua. Fanno bene. Se gli stessi dovessero ritenersi lesi e peggio ancora o meglio ancora ritenere lesi le proprie comunità le comunità che amministrano di un diritto sacrosanto e intangibile come quello dell'acqua pubblica fanno bene a impugnare i provvedimenti e a manifestare il loro aperto dissenso. Mi sembra che anche sull'Ecam abbiamo grandi margini per poter raggiungere e trovare le soluzioni di sintesi. Su insistenza del Movimento 5 Stelle l'Aula ha poi approvato una mozione per impegnare la Giunta regionale d'intesa con le altre regioni ad informare adeguatamente i cittadini investendo risorse umane e finanziarie per poter raggiungere il quorum dei votanti. Sulla richiesta di referendum si è registrato l'unanime consenso anche delle minoranze che però hanno sottolineato alcune incongruenze dello sblocca Italia voluto da Matteo Renzi per assecondare, hanno detto, gli interessi dei poteri economici. Io sono favorevole a questa proposta di abrogazione, l'ho sottoscritta. Sono convinto che l'Adriatico non può essere in nessun modo manomesso e che per arricchire un solo imprenditore, un solo petroliere, mettiamo in discussione decine di migliaia di posti di lavoro che sono nel turismo, nella pesca produttiva e in quant'altro. Per cui, insomma, sono estremamente contrario alle derivazioni in Adriatico. Perché non estendere il referendum alla tutela dell'acqua pubblica? E anche su questa questione io ribadisco la mia posizione. Sono contrario alla privatizzazione dell'acqua. Mi sono battuto in quel di Termoli affinché si cambiasse registro. Lo farò in Molise, lo farò convintamente perché l'acqua non può essere data a chi poi la gestirà per fare i propri interessi, risolvere le proprie situazioni economiche. Sono convinto che l'acqua debba rimanere pubblica anche nella gestione, non soltanto nell'erogazione. In aula anche due ordini del giorno approvati all'unanimità. Uno contro la chiusura della Prefettura di Sernia e l'altro sulle riforme costituzionali in discussione a Roma che tolgono alcuni poteri alle regioni. Cambiamo argomento. Il Governo valuterà con Trenitaria la possibilità di una fermata del Frecciarossa Bari-Milano a Termoli quando la fase di sperimentazione sarà finita. Questa la risposta che il Ministro del Rio ha dato al Senatore Ruta che comunque ha replicato i molisani vogliono i fatti e non le parole. È polemico anche il Presidente della provincia di Campobasso, De Matteis. Il Ministero dei Trasporti si impegna a valutare con Trenitalia la possibilità di fermata a Termoli del Frecciarossa-Milano-Bari ma solo dopo che l'azienda avrà verificato se sono stati raggiunti gli obiettivi quindi alla fine della fase sperimentale. Ha risposto così il Ministro del Rio all'interrogazione in merito del Senatore Roberto Ruta. Una risposta che suona molto diplomatica visto che il Ministro aggiunge anche che il Governo rispetterà l'autonomia aziendale di Trenitalia ossia non entrerà nel merito di quella che sarà la decisione finale. Pronta la controreplica del parlamentare molisano. Il Governo ha preso l'impegno e ci sta bene ma noi molisani vogliamo il risultato e non le parole. Non prevedere la fermata a Termoli non è accettabile perché è unica per l'intera regione molise. Il Governo però ha detto la sua a Termoli allo stato attuale fermano 18 treni frecciabianca 10 intercity e 2 intercity periodici nel fine settimana. Quindi pare di capire dalle osservazioni Termoli non è realmente penalizzata da Trenitalia si può anche accontentare di quello che ha anche perché prosegue del Rio se anche il Frecciarossa Bari-Milano fermasse in Molise si andrebbe a perdere il vantaggio che questo treno veloce vorrebbe assicurare agli utenti ossia da 5 minuti in meno per arrivare a Pescara 10 per Ancona 14 per Bologna se Frecciarossa facesse le fermate del Frecciabianca non avrebbe senso si risponde al ministro il presidente della provincia Rosario De Matteis se non fosse che solo il Molise è nei fatti l'unica regione adriatica a non avere questo privilegio di una fermata e sostare a Termoli non costituisce né un aggravio di costi né di tempo per l'azienda al contrario se ne avvantaggerebbe un bacino di mezzo milione di abitanti vale a dire Molise Basso Chietino Fortore e tutto il Gargano se poi Termoli è stata esclusa dal progetto per studi di fattibilità denuncia ancora De Matteis questa volta al direttore generale di Trenitalia la colpa a monte non è certo della regione collegamento Campobasso-Benevento soppresso Carpinone-Sulmona soppresso Campobasso-Roma e Campobasso-Napoli viaggi scomodi lunghi e sempre in ritardo la provincia di Campobasso ricorda concludendo De Matteis ha già votato un ordine del giorno all'unanimità per chiedere ufficialmente a Trenitalia di rivedere la sua posizione e mentre si parla della fermata del Frecciarossa Termoli si riaccende la polemica sul progetto della metropolizzana leggera sostenuto con forza dal governatore Frattura sentiamo mentre il Frecciarossa il treno dell'alta velocità che collega Bari a Milano passa alla stazione di Termoli senza fermarsi il governatore Paolo Frattura continua in perterrito a percorrere un'altra strada ferrata quella della metropolitana leggera opera considerata da più parti inutile l'ennesimo sperpero di denaro pubblico dunque il governatore snobba l'alta velocità ma predilige il treno che collega Matrice a Boiano non c'è che dire una visione dei collegamenti che si commenta da sola e a questo punto appaiono inutili le oltre 800 firme finora raccolte dal forum per il trasporto pubblico locale per indurre Trenitalia a far fermare la stazione di Termoli Frecciarossa se la regione è la prima non essere minimamente interessata non avendo fatto nulla di concreto ad oggi per far inserire il Molise nella rete nazionale dell'alta velocità una situazione paradossale che mette in ridicolo Molise già le prese con collegamenti ferroviari scadenti e con quelli stradali ancora peggiori e dunque il progetto della metropolitana leggera ripropone con tutta la sua drammaticità il problema dei collegamenti in Molise e quindi l'opera continua ad essere al centro di accese polemiche i segretari regionali di categoria della CGL sollevano molti dubbi sul progetto dubbi non solo di opportunità ma anche legate ad aspetti strettamente tecnici intendiamo sollevare le nostre perplessità sulla realizzazione di un'opera ferroviaria di dubbia utilità hanno dichiarato Giorgio Simonetti della Filte Pasquale Sisto della filea CGL la metropolitana leggera la cui realizzazione del primo lotto dovrebbe andare a gara a pochi giorni costerà 23 milioni di euro per il sindacato l'opera dai passeggeri in considerazione del territorio che andrà a servire in un momento di difficoltà finanziarie delle amministrazioni in cui le disponibilità economiche sono misurate non sono consentiti errori di programmazione ha ammunito il sindacato che ha avanzato la sua proposta alla luce di tutto questo non sarebbe forse opportuno cercare di trasferire le risorse preventivate su investimenti certi e indifferibili come l'elettrificazione della linea ferroviaria Roma-Campo Basso e la richiesta formulata sotto forma di domanda anche i 500 mila euro della progettazione dovevano essere considerati e preventivati e in quanto riferito a un progetto non più attuale inutilmente spesi interrogativi che come accaduto fino ad oggi anche stavolta sono destinati a rimanere senza risposta così come è destinata a rimanere inascoltata la richiesta della CGL di un confronto pubblico sull'argomento perché nel frattempo l'iter per la via del primo lotto dei lavori va avanti parliamo adesso di turismo e di come promuovere un territorio all'indomani del successo la puntata è stata trasmessa martedì di Unti e Bisunti dello Chef Rubio ma anche sempre in settimana sul sito della CNN che ha dedicato un lungo articolo al Molise da qualche decennio assessori e delegati che passano da quell'ufficio la chiamano promozione del territorio a giudicare dai risultati se fossimo davanti a una commissione d'esame la bocciatura dovrebbe essere solenne se non per tutti per la quasi totalità di quelli che vengono chiamati e pagati lautamente a ricoprire quegli incarichi da tempo sentiamo ripetere la tiritera del Molise da scoprire da tutelare da esportare una gamma di verbi all'infinito tra i quali immancabile primeggia valorizzare solo che una volta entrati in quegli uffici dalla scrivania larga e con la poltrona comoda assessori o delegati di turno dopo aver snocciolato i proclami all'infinito sgranano gli occhi e mostrano tutte le lacune di cui sono portatori perdendosi nei meandri della promozione turistica e delle valorizzazioni enogastronomiche e culturali due esempi ultimi perché ce ne sarebbero a Iosa lampanti e illuminanti su come si può pubblicizzare una regione da scoprire senza ricorrere a inglesismi alla matriciana il primo è la trasmissione Unti e Bisunti andata in onda su D-Max il cui titolo è già un proclama non è detto che cultura e turismo siano materia esclusiva per pseudo intellettuali di ritorno non è sufficiente scimmiottare Filippo D'Averio per diventarlo l'imitazione spesso finisce in macchietta a volte è meglio sporcarsi le mani nella sugna che avere al collo la sciarpetta da regista o il papillon da critico d'arte il secondo esempio è la pagina online della CNN che non ha certo bisogno di spiegazioni almeno si spera che ha dedicato un lungo e dettagliato articolo al Molise con tanto di foto e titolone su una regione piccola dimenticata ma nella quale si trova di tutto dai siti archeologici di un popolo che ha conteso la supremazia a Roma ai paesaggi incontaminati dei piccoli borghi al Cacio Cavallo e al Brodetto di Termoli come and see ha risposto trionfante da Facebook il delegato alla cultura del Molise ma non sempre tutti sono baciati dalla fortuna o dalla parentela dunque olio di gomito per fare bene il proprio lavoro e meno commenti ai successi ottenuti per meriti che non sono propri il Molise per ora si scopre solo per caso le camminatrici del Piemonte di quest'estate insegnano anche dai social ed è tutto per questa edizione di Sette Giorni di Cronaca grazie per aver scelto la nostra informazione arrivederci